Queste due norme che abbiamo approvato e che andremo a presentare in Consiglio il 6 agosto sono entrambe importanti perché erano fortemente attese dal mondo del piccolo commercio, quindi dal mondo delle attività commerciali ambulanti e dal mondo delle organizzazioni di categoria che organizzano fiere e mercati. Una legge che prevede correttamente e giustamente finalmente un ristoro economico per quelle attività che in qualche modo vengono penalizzate dalla realizzazione di un'opera pubblica. Perché lo spirito della legge? Perché se dal lato l'opera pubblica va a toccare un interesse generale è altrettanto giusto e corretto salvaguardare quelle attività che in qualche modo si vedono ridurre i propri margini di profitto proprio a seguito dell'installazione di un cantiere che magari rende più difficile lo svolgimento dell'attività o in alcuni casi la finisce per inibire. Tanto che la legge prevede questo ristoro sia in caso di fermo dell'attività che anche semplice di riduzione dell'attività. È una legge nuova, è una legge che prevede anche un meccanismo di autovalutazione perché dopo un anno andremo a verificarne l'ambito di applicazione e quindi anche l'opportunità eventualmente di confermarla o di modificarla a un primo stanziamento finanziario di 400 mila euro che evidentemente è una dotazione iniziale che andremo a verificare poi se congrua o meno. L'altra legge che abbiamo approvata è una parziale modifica del testo unico del commercio, in particolare sono due norme di modifica. La prima prevede la possibilità di organizzare fiere ed eventi, anche associazioni che abbiano una rappresentatività in ambito regionale ma che non siano sottoscrittori di contratto collettivo nazionale perché la dicitura iniziale della norma del testo unico del commercio finiva involontariamente per creare una sorta di trust per cui praticamente anche associazioni fortemente rappresentative del nostro territorio questa possibilità era inibita. L'altra norma invece è un'interpretazione autentica del mantenimento del titolo abilitativo rispetto alle assenze. È una norma che così come è scritta evidentemente ha creato problemi di applicazione e interpretazione ai soggetti soprattutto ai comuni che dovevano andarla ad applicare quindi l'interpretazione autentica essendo retrattiva va a chiarire la portata della norma dal momento della sua emanazione fino a oggi. È emerso già tuttavia la necessità di riscrivere meglio la norma stessa, questo sarà oggetto di una futura modifica del testo unico del commercio che comprenderà anche tutta una serie di emendamenti che oggi sono stati presentati e accantonati proprio perché riproposti in un successivo testo di legge che dopo la ripresa dei lavori quindi dopo la pausa estiva il presidente della commissione insieme agli uffici si è fatto carico di predisporre e di presentare appunto alla commissione stessa.